Siamo nell'Aula di Genetica Medica dell'Università di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia e abbiamo appena assistito a una splendida conferenza, lezione, seminario, perché forse è più un seminario, con il professor Francesco Cassata che è docente di storia contemporanea all'Università di Genova. Lei ha presentato praticamente nell'arco di poco più di mezz'ora i contenuti salienti di questo libro molto interessante che si chiama L'Italia intelligente, che racconta praticamente la storia di un laboratorio di cui io ignoravo l'esistenza che si chiama LIGB, il Laboratorio Internazionale di Genetica e Biofisica di Napoli, e attraverso le vicende della nascita e della morte di questo laboratorio venne poi a Torino il professor Ceppellini, Ruggero Ceppellini, che è stato uno dei pilastri della rivoluzione qualitativa della medicina torinese degli anni Sessanta, Torino. Allora, questo è il libro innanzitutto, che consigliamo vivamente di leggerlo perché è interessante, al di là del titolo che è molto bello, l'Italia intelligente, ce n'è un altro che sta preparato che ha un titolo ancora più bello, che si chiama L'Atomo Immanente, che riguarda tutte le vicende della produzione civile, quindi a scopi energetici dell'energia atomica. Sì, esatto, in particolare riguarda una vicenda, che fu la vicenda del caso Ippolito, il cosiddetto caso Ippolito, cioè il processo dato a Felice Ippolito, segretario generale del CNEN, nella metà degli anni Sessanta, che segnò la crisi di un organismo appunto come il CNEN, che aveva avuto un ruolo fondamentale nel finanziamento della ricerca pura in Italia, non soltanto di quella applicata nel campo appunto della ricerca nucleare. Comunque, ritorniamo invece alla genetica. Questo laboratorio di che cosa doveva occuparsi a Napoli? Il laboratorio era composto da una pluralità di sezioni che andavano dalla genetica batterica alla genetica di popolazioni, alla citogenetica. Era di fatto un laboratorio di quella che incominciava essere definita come biologia molecolare. Insieme al Cambridge, al Pasteur, al laboratorio di biologia molecolare del Pasteur, all'Istituto di genetica molecolare di Ginevra, il LIGBA è rappresentato per l'Italia il luogo in cui di fatto si è costituita inizialmente la biologia molecolare al di fuori dell'università, in collegamento con l'università ma di fatto al di fuori. All'epoca i libri di testo di biochimica per l'università erano di 50 pagine, non di più, e una quarantina di pagine è quella di microbiologia all'epoca. Indubbiamente c'erano delle tradizioni importanti di biochimica e di microbiologia in Italia. La biologia molecolare rappresentava tuttavia un approccio nuovo che aveva avuto la sua origine di fatto negli Stati Uniti e questo modello statunitense si era negli Stati Uniti a Cambridge ovviamente, quindi nell'ambito anglo-americano e appunto la scommessa del LIGBA, di laboratori come il LIGBA fu proprio quella di portare in Italia quel modello e alimentare in questo modo un processo di modernizzazione della biologia più tradizionale insegnata nei dipartimenti universitari. Sì, la vicenda di questo LIGBA è molto complessa, si articola tra Pavia, Roma, Bruxelles, quindi la fondazione dell'Euratom che era un'agenzia, cioè io ho fatto l'elementare in quegli anni lì e ci torturavano, la ceca, la cosa del carbone, l'Euratom, erano sei nazioni, quindi c'è un grandissimo entusiasmo per l'Europa e quindi mi ha fatto fare in pratica quattro passi nella mia infanzia. Comunque, ripeto, è una vicenda molto complessa che si conclude a Napoli con la fondazione di questo LIGBA nel 1962, c'è di mezzo il CNR, il CNEL, il CNEM, il CNEN, eccetera, tutte le sigle che noi conosciamo, abbiamo sentito dire, eccetera, eccetera. Da quello che ha detto lei si capisce che l'Italia già a quei tempi lì era una specie di me, era spaccata in due parti. Una parte, diciamo così, progressista, se vogliamo, è una parte che aveva, diciamo così, ancorata al passato, ha dei valori per la carità molto nobili, molto anche da difendere, mica da abiorare, però voglio dire che in fondo si contrapponevano alla novità, al progresso. Beh, per certi aspetti sì, nella misura in cui soprattutto figure dell'elite scientifica italiana come Adriano Buzzeri Traverso puntavano a introdurre in Italia quello che era un modello di modernità che si identificavano di fatto con alcuni laboratori statunitensi come il MIT di Boston, il Caltech o il laboratorio di Oak Ridge negli Stati Uniti, vedendo in questi laboratori un punto di riferimento per quello che doveva essere lo sviluppo della biologia in senso molecolare anche per l'Europa. Altri laboratori europei tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 avevano in qualche modo già intrapreso questa strada di modernizzazione. l'Italia per certi aspetti era rimasta indietro in seguito anche alle resistenze forti che provenivano dal mondo accademico, essenzialmente dai dipartimenti universitari. Un'altra cosa molto interessante che lei ha detto è praticamente ha citato un personaggio di cui adesso mi rifarà il nome di sicuro che ha fatto una relazione per gli Stati Uniti sulla situazione accademica universitaria italiana che è disperante da un certo punto di vista per un americano è assolutamente incomprensibile, è miracoloso che lui abbia capito che la situazione fosse questa. Però denota al di là della valutazione che è oggettiva, non volesse una valutazione di merito di tipo moralistico dicendo no lasciamo perdere, anzi è una valutazione della realtà accademica italiana e soprattutto a livello scientifico di grande valutazione e di aiuto per fare in modo che l'Italia riuscisse ad emergere con le sue forze proponendosi a livello internazionale nel mondo, quindi evitando la fuga dei cervelli che continua tuttora e di cui gli americani erano preoccupati, erano preoccupati loro più di noi. Ho capito bene. Esattamente, si trattava di William Consolazio, William Consolazio era il direttore del programma di biologia molecolare della National Science Foundation statunitense. L'articolo di cui si sta parlando venne pubblicato su Science ed era il risultato di un anno di interviste e di analisi dello stesso Consolazio nei principali laboratori di biologia dell'Europa occidentale. Questo articolo che si intitola Dilemma of Academic Biology in Europe, quindi il dilemma della biologia accademica in Europa, evidenzia proprio questo aspetto. Quale deve essere il rapporto fra Stati Uniti e Europa in questo ambito, soprattutto laddove i dipartimenti universitari di biologia rimangono ancora uno Stato che Consolazio e la National Science Foundation statunitense ritengono arretrato e scarsamente innovativo. Il punto di Consolazio era quello di, in qualche modo, aiutare gli Stati Uniti a comprendere la situazione europea e, in qualche modo, a trasformarla all'interno di un progetto egemonico che utilizzava le agenzie come la Rockefeller Foundation o la National Science Foundation o la Ford Foundation negli anni della Guerra Fredda come uno strumento di politica diplomatica, di politica internazionale, di egemonia, di fatto di costruzione del consenso attraverso non l'imposizione dall'alto, ma attraverso l'istituzione di un rapporto con quelle componenti modernizzatrici delle elite scientifiche e politiche, nel nostro caso italiane, ma in generale europee, che condividevano lo stesso universo di valori, le stesse prospettive di ricerca e di sviluppo. La Germania, che aveva dichiarato guerra agli Stati Uniti un anno prima di noi, però, voglio dire, era stata trattata da questo punto di vista in maniera analoga all'Italia o in maniera diversa? No, beh, la Germania è un caso molto interessante. Nel caso appunto della Germania federale abbiamo una situazione, per certi aspetti, analoga, ovvero abbiamo componenti dell'elita scientifica tedesca, innanzitutto Max Delbruck, uno dei pionieri, dei fondatori della biologia molecolare negli Stati Uniti. Ricordiamoci che Delbruck era immigrato negli Stati Uniti proprio dopo l'ascesa al potere di Hitler. Diventa, nel secondo dopoguerra, negli anni 50 e 60, grazie all'aiuto degli Stati Uniti, uno di coloro che appunto cercano di portare l'esperienza statunitense di nuovo in Europa, di nuovo in Germania, a Colonia nel caso specifico, ma trova di fronte a sé nel contesto tedesco di nuovo l'ostilità di gran parte dell'Accademia. Questa è una situazione che per certi aspetti è comune a molti paesi europei, in Francia, in Germania, in Italia. Si delinea proprio questo contrasto tra un'elita legata agli Stati Uniti che si era formata negli Stati Uniti oppure che era emigrata negli Stati Uniti e che poi ritorna in Europa è un contesto locale che spesso resiste a queste strategie di modernizzazione. Ecco, l'ultima domanda che volevo fare è se ci può ricostruire in tre frasi l'arrivo del professor Ruggero Ceppellini qui a Torino che abbiamo già presentato all'inizio della nostra intervista, insomma, che da quello che ho capito fu una specie di restituzione di integrum per un concorso che non gli viene fatto vincere. Beh, sì, diciamo che le vicende accademiche che portarono poi Ruggero Ceppellini alla cattedra a Torino sono particolarmente significative, soprattutto se guardiamo al concorso di genetica per la cattedra di genetica medica di Roma del 1960 che portò, diciamo, alla cattedra una figura come Luigi Jade che all'epoca era direttore dell'Istituto Mendel di Roma e che era molto noto ovviamente per la sua attività politica. Molto perché per i suoi lavori scientifici, devo dire. Diciamo, i suoi lavori scientifici erano molto controversi e molto soprattutto suscitavano molto ostilità e diffidenza fra quelli che erano all'epoca gli ordinari di genetica, oltre a Buzzeri Traverso, soprattutto Montalenti a Napoli e Claudio Barigozzi a Milano. Questo concorso fu però comunque significativo perché al secondo posto arrivò Ruggero Ceppellini e al terzo Luca Cavalli Sforza e in qualche modo in un processo... La genetica italiana. Esatto, in certi aspetti alcune delle figure fondamentali della storia della genetica in Italia che poi riuscirono a collocarsi rispettivamente a Torino e a Parma e quindi a trovare una posizione universitaria che appunto, vista queste dinamiche concorsuali, non era affatto scontata e anzi, diciamo, sia Ceppellini sia Cavalli Sforza all'epoca puntavano ormai quasi a emigrare soprattutto negli Stati Uniti di fronte alle difficoltà incontrate nel vincere un concorso in Italia. Ecco, lei dimostra nella sua esposizione anche delle conoscenze scientifiche perché si capisce che da alcuni riferimenti che fa si capisce che lei sta capendo che cosa si sta raccontando dal punto di vista scientifico. Come è fatto ad abbinare la preparazione storica, che ovviamente è il suo pane quotidiano, all'altra che invece potrebbe anche non esserlo? Beh, diciamo che di fatto è stata una preparazione da autodidatta sostanzialmente. e mi sono reso conto che era necessario studiare anche un po' di genetica e di biologia. Ovviamente a un livello che non è un livello paragonabile, insomma, ai livelli di genetisti, di biologici di professione, ma che mi consente comunque di entrare nel merito. Di capire le differenze soprattutto dei problemi. Esatto, di capire, diciamo, i momenti in cui, diciamo, delle differenze di orientamenti scientifici, ad esempio, si traducono in scontri a livello sociale, politico e accademico. In Italia, diciamo, non c'è una tradizione che prevede, ad esempio, il conseguimento per gli storici della scienza due lauree, una di carattere scientifico e una di carattere umanistico. Per cui spesso gli storici della scienza in qualche modo si attrezzano autonomamente nell'acquisire, appunto, delle conoscenze. Per colmare il gap, come si dice. Esatto, per colmare il gap di cultura, esatto, scientifica. Grazie e complimenti. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei.